Facciamo solo che da anni, cioè lei mi ha chiesto spesso vediamoci così, io ho paura, cioè siamo nella villa, siamo qua, ci arrestano se ci vediamo io e te insieme. Fabrezzi è numero uno. Poi mi ha fatto incazzare, perché mi ha fatto incazzare dopo, non me lo dimentico. Andalusia, terra di flamenco, toreri, spiagge mozzafiato e di un totale incontrollabile delirio collettivo. E oggi vi mostreremo che fine hanno fatto i protagonisti di quella pazza odissea nell'ormone. Ciao, ciao. La gola afona della televisione italiana, Fabiana. Io sono più o meno difficoltà a fare queste cose. Ma tu sai quante persone mi hanno detto, ma perché adesso hai una voce diversa? C'è un problema, c'è un grosso problema di base. Io non so, ho urlato probabilmente perché ho urlato troppo. Tua non esiste, o fai dentro poi gallo, o donna tua, tua. Trovi diversa? Beh, hai un po' di inchiostro in più. Ma sì, ne ho fatti parecchi nuovi. Sì, 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 ho fatto un po' le mani, le dita. Forse quello che ho centrale nella spina dorsale, che ho una scritta in arabo, c'è scritto se volevo piacere a tutti nascevo bugia. E io anche, siccome ho un carattere penso un po' particolare, anzi senza penso, o piaccio o non piaccio. E oggi, ti piaci? Mi sento più me stessa, sono più rilassata, mi sento più a mio agio, sono molto più felice in realtà. Sono fidanzata, convivo in realtà poi da un anno ormai la fine a questa parte. Con Lucrezia invece è un po' tira e molla, vero? Non possiamo stare insieme, io e lei facciamo solo che danni. Cioè, lei mi ha chiesto spesso, vediamoci così, Lucrezia, io ho paura, cioè non siamo nella villa, siamo qua, ci arrestano se ci vediamo io e te insieme. Te. Ok. Oh, bella! Oh, non posso! Ma che vuoi? Le mani nel muso! Le batte. Un grande botto, mi ricordo all'inizio la bella bottigliata di Lucrezia Denise. No, comunque coppia di Fabrezia, numero uno. Quando è rientrata Lucrezia, che ti giro quando l'ho riconosciuta, ho detto, no, non ci credo, è la mia fidanzata. Che sono corsa nell'acqua, vestita di bianco, logicamente, ma stai buttando senza niente, ma hai buttata nell'acqua. Oddio! È Lucrezia, amico! Essi, che c'è attenzione, però ci amme! Lucrezia! Ma come ho fatto in c***a come ho fatto in c***a, non me lo dimentico. Me l'ha messa in c***a, me l'ha messa lì. Mi ha dato fastidio perché io ci tenevo a Lucrezia. Avessi che tutti quanti ci fossero rimasti un po' scioccati. Che io sarei messo qua in c***a come l'ho abbracciato a Lucrezia? C***a! A f***a! Hai dato un'altra chance ad Andrea? Siamo stati insieme fino a, vabbè, quando c'è stato il lockdown, che poi, vabbè, siamo insieme lo stesso un paio di mesi, però poi basta, è finita molto, molto tragicamente. Molto tragicamente. Ma in Spagna non c'era solo Andrea? Il mio flirt con Matteo è nato, beh, subito la prima sera in realtà. Ma era nato un po' così, cioè, non ci conoscevamo, c'era attrazione estetica e poi a lui piacciono le bionde, quindi, cioè, io ero quella bionda. Voglio le coccote. Ma in mattina, non fai. Basta, basta. Tu sei malata. Dai, fai serio. Vieni qua. No, non so una pistola. Ma come no? Io che lo carezzavo. No, ma dai, non importa, vieni qua. Poverino. Ho fatto tenerezza. Tenerezza a parte, tra voi c'è stato anche un patto segreto. Possiamo fare gli amici. Ma facciamo qui, facciamo il patto. Ok. Io ti sc***o tutta la vacanza. Sì. Però ci qualizziamo. Esatto. Ma mi, ma però me lo prometto. Ma me lo prometto. Perfetto. Ti giuro che quando mi ricordavo di questa parte, di questa scena del patto, però vabbè, alla fine ci sta. Ma no, vogliamo fare un patto noi. Tutto è vero? Sì. Ma tutte le stelle non ce la fa. Sì, no. Poi mi amore. No, sì. Ah, Dex on the Beach, il mio rapporto con Denise, è partito tutto quanto dalla sfida del costume. Che lei si è messa il costume uguale al mio, quello è stato un affronto. Ma non ti puoi mettere il costume come il mio? Cambiati, l'avevo messo prima io. Otto. E a parte che il mio era più bello, però quello è un altro discorso. Comunque, no, è sempre stato troppo diverso da me. Proprio questo fare da... Questo che mi ha ancora bloccato dappertutto. Si mi odia proprio totalmente.